Ciao a tutti cari signori di MDN, e benvenuti in questo nuovissimo video di VMILEICL, con la richiesta di Ultima Stella 87, e Christian Mattia 2004. Cominciamo subito con, 1, Ultima Stella 87. Maurizio Costanzo, nato a Roma il 28 agosto 1938, e morto a Roma il 24 febbraio 2023, è stato un giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, accademico, scrittore, sceneggiatore e parliere italiano. Gian Maria Volpato, noto semplicemente come Gian Maria, nato a Vicenza il 25 agosto 2002, è un cantautore e rapper italiano. Se Rayoio ritrasmettesse calendario dell'avvento? Non si sa. Emigratis, la resa dei conti, noto semplicemente anche come Emigratis, è stato un programma televisivo italiano d'intrattenimento, ideato e condotto dal duo comico Pio e Amedeo. E la sua sigla è, bellissima. È andato in onda su Canale 5 ed è stato scritto da Amedeo Grieco, Pio Dantini, Emanuele Licitra e Sergio Catapano. Le prime tre edizioni sono andate in onda su Italia 1 dal 3 aprile 2016 al 19 aprile 2018, scritte da Amedeo Grieco, Pio Dantini, Fabio Di Credico e Aldo Augelli. Le prime due edizioni sono andate in onda in seconda serata successivamente, visto il successo ottenuto, sono stati spostati in prima serata. La 7 o la 5? La 7. E concludiamo il video con, 2, Cristian Mattia 2004. La TV dei 101, è un programma televisivo italiano di varietà, in onda in prima serata su Canale 5 dal 15 marzo 2023, ideato e condotto da Piero Chiambaretti. E con questo nuovissimo video è tutto. Mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e mettete la campanella per non perdervi i nostri nuovi video. Ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!